Se negli anni precedenti a metà giugno il 60% dei gelesi sfoggiava una tintarella da fare invidia a chiunque, quest'anno la stagione estiva sembra non voler aprire battenti. Il meteo ballerino delle ultime settimane ha reso quasi impossibile recarsi spiaggia per una giornata intera e sono in molti che approfittano delle sporadiche giornate di sole per fare il tanto atteso primo bagno. Speriamo che mantenga il tempo perché se non mantiene qua non si va nessuna parte. Siamo stati sabato, poi è venuta la pioggia e si ferma a casa oggi, un'altra volta. Finalmente sì, primo giorno di mare. L'abbiamo aspettata con dandanzia perché io amo il mare e non ve ne volo ora di ritornarci. Quali sono le prospettive per quest'estate 2023? Rilassarsi, divertirsi e stare più possibile con i bambini per quello che mi riguarda. Quest'estate ha tardato un po' ad arrivare rispetto alle tempistiche degli altri anni. E quindi sicuramente si prospetta un'estate molto lunga. Diciamo che a Natale avremmo ancora la possibilità, spero, di andare al mare. Stamattina in spiaggia sono già presenti le prime comitivi di studenti e chi ogni anno torna per godere del litorale gelese. Oggi la prima tintarella? No, oggi sono venuta. Come sta andando quest'inizio dell'estate? Bene, ecco. Sai, il tempo si sistema. Primo giorno di mare? Esattamente. Ci siamo fatti il tuffo per la prima volta di quest'estate. Si spera che si andrà altre volte se il tempo lo permette. Primo giorno di sole ci vuole proprio. Dopo due giorni di pioggia siamo venuti solo per il mare, per il sole e per l'oro, ovviamente. Anche per questa stagione estiva i bagnini raccomandano ai bagnanti di tenere un comportamento responsabile in modo da evitare spiacevoli incidenti. Riparte dopo un tempo un po' ballerino, però finalmente ci siamo, dai. Quali sono le precauzioni da tenere sempre quando si va a mare? Le precauzioni da tenere sempre prima di andare a mare sono sempre le stesse quelle di ogni anno. Dobbiamo stare attenti alla bandiera, che è sempre molto importante. Quando trovate la bandiera bianca potete fare tranquillamente il bagno. Quando invece trovate quella rossa dovete stare particolarmente attenti. E non dimenticate mai la crema, che è molto importante. Quali sono i presupposti? Come si presenta questa nuova stagione? Questa nuova stagione si presenta bene, si presenta bene come ogni anno. I presupposti sono buoni e le aspettative sono alte. Per la stagione estiva 2023 anche gli stabilimenti balneari hanno subito un lieve rincaro dei prezzi, causato dall'aumento delle utenze e dei beni alimentari che forniscono ai clienti. Nonostante gli aumenti, la Sicilia si mantiene tra le regioni più economiche per quanto riguarda i costi da sostenere per chi si recherà al mare. E' quanto rilevato da FederConsumatori, che ha analizzato i prezzi dei lidi e servizi delle spiagge di tutta Italia.